Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi mostreremo la bici del velocista italiano Matteo Maluccelli. Vi daremo tutti i dettagli, incluso il peso. Ecco la Pardus Spark Ivo di Matteo Maluccelli, atleta che circa un mese e mezzo fa è approdato alla squadra cinese Continental China Glory. Lo sprinter forlivese aveva iniziato la stagione con il team Gazprom ed era partito benissimo. A febbraio, Tour of Antalya, al primo giorno di gara del 2022 subito una vittoria e poi ottimi piazzamenti all'UAE Tour. A inizio marzo è arrivato lo stop del team da parte dell'UCI per le sanzioni alla Russia e lui, come altri compagni di team, è rimasto senza squadra. La nazionale italiana lo ha fatto correre al giro di Sicilia e lui ha ripagato la fiducia vincendo la prima tappa. Dopo mesi nell'attesa di un contratto è arrivata la proposta del team China Glory, squadra finanziata dal governo cinese, nata all'inizio di quest'anno e che per il 2023 punta al salto nella categoria professional. Concentriamoci adesso su questa bici che è stata filmata dai colleghi di GCN en français durante l'Arctic Race of Norway di un mese fa. Pardus, che in italiano significa leopardo, è un marchio 100% cinese nato nel 2010. La bici è omologata dall'UCI anche se non troviamo l'apposito bollino. Questa Spark Ivo è montata con cambio Shimano Ultegra di 2 a 12 velocità, guarnitura potenziometro SRM Power con corone anteriori rotor 5339, pacco pignoni 1130. Le pedivelle, che purtroppo non sono state posizionate a ore 3 come piace a Giorgione, sono da 170 mentre i pedali sono l'UC Keoblade Carbon Ceramic. Passiamo alle ruote che sono Elite Bob da 50 mm di profilo su cui troviamo montati tubolari Vittoria Corsa Graffene 2.0 da 25 mm. I dischi sono Shimano Ultegra da 160 mm, quello anteriore da 140 mm, quello posteriore. Eccoci alla zona guida. Il manubrio è MVMT integrato da 40 cm di larghezza. L'attacco manubrio è da 120 mm. Restando sempre, sul manubrio troviamo il supporto Fourier, ma senza il ciclocomputer che è Garmin. La sella è Prologos Scratch M5, il regissella è Pardus. I portaborracce sono Fourier Carbon, le borracce Maorten. Chiudiamo con le misure. Ma l'uccelli è alto 1,71 e pedala con un'altezza sella di 68,6 centimetri. Distanza punta sella manubrio 54,5 centimetri. Non abbiamo purtroppo il dislivello sella manubrio. Ed eccoci al momento fatidico del peso. Andiamo a vedere cosa dice la bilancia di Florian, 7,340 kg. Quindi come vi sembra questa Pardus Spark Evo? Vi ricordo che potete votare sull'app di GCN e scegliere se per voi questa bici è bella o stupenda. Se il video vi è piaciuto ricordate di mettere like e commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!